Tu come mai hai scelto di fare l'infermiera? Perché è una professione dinamica, perché un infermiere è il risultato di una questione di competenze cliniche, relazionali ed educative. Per me una vita spesa per aiutare gli altri è una vita vissuta al doppio. La materia medica mi ha sempre affascinato, ma ancora di più il poter aiutare concretamente chi soffre o è in difficoltà. Nel mio paese gli infermieri vanno al lavoro e in divisa, io ero innamorata di questa divisa. Mi sono appassionata a tutto l'ambiente ospedaliero. Ho sempre voluto svolgere un lavoro che mi permettesse di essere a disposizione degli altri e di rendermi utile. I miei genitori sono stati tutti e due infermieri, quindi posso dire che ce l'ho nel DNA. Quindi io dichiaro di non fare, ma di essere un'infermiera. Perché è una professione che fa la differenza all'interno della nostra società. E il vero obiettivo sarà sapere che queste persone potrebbero dimenticare il tuo nome, ma mai come ne hai fatti sentire. Una parola per riassumere tutto è ascolto, perché è la caratteristica fondamentale dell'infermiere che deve sapere ascoltare. In una parola, per me essere infermiere significa anche essere un artista, significa plasmare e modificare gesti di cura partendo dai bisogni delle persone. Significa amore, amore che non è ciò che fai, ma quanto ne metti in ciò che fai. Significa esserci, per aiutarti a camminare, per trovare una posizione in un letto che non è il tuo, per sollevare lo spirito con una risata, per confortarti ed aiutarti quando piangi, per gioire nella guarigione o stringerti la mano nella morte. Esserci sempre, esserci quando qualcuno ha bisogno, anche solo di un antidolorifico, esserci in reperibilità, esserci adesso durante il periodo Covid in pronto soccorso. L'infermiere, in una parola, è aiutare. Mettere la mia professione al servizio degli altri. Essere infermiere vuol dire affrontare le grandi sfide di tutti i giorni, lavorare in team, stare a fianco sui taglini e in particolare a chi è malato. Significa passione, la passione che dimostriamo tutti i giorni e l'assistenza ai nostri malati. In una parola, per noi fare l'infermiere, significa accoglienza. In quanto seguiamo le persone dal loro ingresso in ospedale fino al momento della loro dimissione. La mano degli altri. La mano dove gli altri non possono arrivare, noi ce la possiamo fare. Gli infermieri non si fermano. 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 Gli infermieri non si fermano! Gli infermieri non si fermano.